Allora, sono qui con Solidworks e sono col pezzo di questo pignone creato dal mio allunno Alberti di Quinta e a mio avviso è stato fatto in un modo differente rispetto a come avevo spiegato io, ma comunque molto corretto anzi, probabilmente anche più corretto del mio, nel senso che la ruota dentata creata dalle toolbox l'ha fatta dopo, cioè l'ha inserita dopo e questa può essere un'alternativa, cioè io avevo fatto vedere come inserirla prima e poi fare le lavorazioni avevo fatto vedere come non usare le toolbox e dunque farlo in modo un po' artigianale, così approssimato al di là che anche le toolbox sono approssimate, però naturalmente se faccio con le toolbox sono più veloci e lui l'ha fatto in un altro modo, cioè un terzo modo, nel senso che faccio tutto e poi una volta che ho finito inserisco dentro i denti. Infatti qua lui comunque ha fatto grezzo, fase 10, fase 20, operazione 10, operazione 20 e poi operazione 30, la sede, l'albero scanalato e poi il fidito aggiungendo i denti e qui se andiamo a vedere qua come ha fatto, cioè nel senso che andiamo a vedere la storia dunque la rivoluzione del grezzo, poi è andato a tagliare la creazione e dunque anche lui ha usato le configurazioni proprio in scala, attivando una dopo l'altra e questo è molto comodo, facendo questa è l'operazione che abbiamo detto 30, giusto? dovrebbe essere, no la 20, a questo punto è andato a fare con questo colpo l'operazione 30 l'albero scanalato, qui è andato, vediamo andare a fare questo qui, ok? perché poi inserisce qua, dà lo spazio per inserire la vuota dentata va ad aggiungere, che si può fare tranquillamente quando si inserisce un oggetto quando abbiamo aperto, usiamo le toolbox inserendo dentro in una parte, ok? a questo punto semplicemente ha usato un sposto a corpo, anche questo interessante aggiungendo, dovrebbe avere usato coincidente e concentricità perfetto dunque qualsiasi cosa che io faccio qui, lui poi si aggiungerà, dunque fatto bene a questo punto vado ad unire i due corpi, trasformandoli in un corpo solo dunque a mio avviso il 3D è fatto benissimo, è fatto veramente bene come, dunque ripeto, terzo modo alternativo prima parto dalla vuota dentata e costruisco tutto attorno però dopo diventa difficile come configurazione altro modo, i denti li faccio così, allora a questo punto così li costruisco io velocemente, poi con dritti e poi li faccio, uso il comando flex per rendergli una simile liquidale naturalmente questa è mi serve per la rappresentazione schematica non andrò mai a costruirlo con la stampante 3D in additiva e il terzo metodo che probabilmente a mio avviso alla fine tra tutti è il migliore, costruisco l'albero e poi aggiungo attraverso le toolbox aggiungo la vuota dentata vera e propria diciamo il pignone vero e proprio lavoro molto bello, ci vediamo alla prossima, arrivederci